È stata inaugurata stamattina a Nuoro nel centro polifunzionale di Via Roma la mostra anuragica promossa e organizzata dalla cooperativa Sardinia Experience col patrocino del comune di Nuoro. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Andrea Suddu, la storia regionale della cultura Giuseppe Dessena e l'intera giunta comunale di Nuoro. Domani la mostra sarà aperta al pubblico e sarà visitabile fino al 7 aprile. Siamo contentissima di essere a Nuoro perché Nuoro è il cuore della Sardegna, noi ne parliamo già dal 2017, da quando è nato questo format di nuoragica e che insomma dà un nuovo impulso non solo alla valorizzazione del patrimonio archeologico che è immenso qui in Sardegna ma noi in realtà uniamo quello che poi è la cultura al turismo cioè raccontiamo una storia, la raccontiamo in maniera innovativa con un percorso di storytelling che dura all'incirca un'ora, quindi un'ora di immersione dove il nostro visitatore viene proprio guidato all'interno di ricostruzioni e poi la chicca. La realtà virtuale immersiva per la prima volta in Sardegna abbiamo portato una novità per quanto riguarda questa nuova tecnologia che fa rivivere da protagonisti l'essere nuoragico e quindi insomma è importante questo avvio di questo periodo, di questa quarta edizione di nuoragica. Noi abbiamo già fatto tappa a Dolbia, a Sassari, siamo stati a Barumini sette mesi e oggi insomma ci trova ospitati in questa bellissima location nuova che è il centro polifunzionale che noi abbiamo riadattato con le nostre ricostruzioni. Quindi invitiamo tutti i nuoresi a venire a trovarci perché sarà veramente un continuo di emozioni e presi per mano proprio in questa bellissima civiltà nuoragica che è di mille anni di storia e noi la raccontiamo dall'inizio alla fine e scoprirete veramente tante tante sorprese.